Ciao amici di JoyDead! Ecco come preparare un biglietto in cui inserire una card che volete regalare. Come prima cosa stampate fronte retro il foglio. A questo punto tagliate lungo le piccole linee tratteggiate. Vi serviranno per poi inserire la carta. Dopodiché piegate a metà il foglio una prima volta e poi una seconda volta. Ora potete inserire la carta. Ricordate di attivarla e di scrivere sul sito la storia per la persona a cui volete donarla. In questo modo avrete poi sulla sinistra uno spazio per scrivere un piccolo messaggio a mano e sul retro le istruzioni. Ecco fatto! Ora il vostro biglietto e la carta sono pronti per viaggiare. Ciao!